Il Comune di Pesaro ha ottenuto un finanziamento di 197.000 euro da fondi europei e ministeriali per integrare i servizi di accoglienza e dare risposte più immediate ed efficaci al disagio creato da povertà e marginalità. L'obiettivo di questo progetto, che si chiama PRINCE, è quello di attivare una regia unitaria di accoglienza dedicata ai senza fissa dimora, che collegherà uffici e attività già presenti sul territorio. Caritas e Croce Rossa italiana saranno i due compagni di viaggio dell'amministrazione comunale e metteranno in campo tutti i loro servizi, supporto psicologico, accoglienza notturna, distribuzione di genere alimentari, supporto amministrativo e tutto ciò che risulterà fondamentale ai bisogni di chi non può aiutarsi da solo. Il progetto PRINCE è un progetto che va a potenziare una serie di servizi che già sono sul nostro territorio e sono legati all'estrema povertà e portati avanti dall'amministrazione comunale in rete con la Croce Rossa e la Caritas. Sono 200.000 euro che vanno a potenziare per Croce Rossa il servizio di unità di strada che tre volte a settimana svolge un'attività sul territorio con i senza fissa dimora e potenzia per Caritas tutti quei servizi di prima accoglienza, di ascolto, il centro di ascolto che oggi sono dislocati nel centro storico. Questo progetto va a agire nella prima accoglienza, quindi nella prima presa in carico dando i primi servizi che vanno da potenziare l'attività come la doccia che se vogliamo è molto importante, piuttosto che la fornitura di alimenti, piuttosto che i controlli sanitari che svolge gratuitamente la Caritas e anche tutta la partita legale o di aiuto nelle pratiche amministrative che sono anche in questi contesti diventano importanti.